Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Venti imperatori romani di Andrea Giardina. Marco Aurelio Commodo Antonino fu il primo imperatore porfirogenito, cioè nato nella porpora, ovvero nato da un padre che era già imperatore. La porpora è il simbolo del potere imperiare, è la stoffa che si addice soltanto agli imperatori. Vide infatti la luce proprio nel 161, quando il padre, Marco Aurelio, regnava da appena un anno. Il fatto di aver scelto Commodo come successore è la colpa maggiore che gli antichi e i moderni hanno attribuito a un imperatore peraltro giudicato in termini molto positivi, cioè Marco Aurelio. Prima di lui tutto il secondo secolo era stato caratterizzato dal principio dell'adozione e della scelta del migliore nella successione imperiale. E così Traiano aveva adottato Adriano, non avendo figli, e Adriano aveva adottato Antonino Pio. E Antonino Pio, anche lui privo di eredi maschi, aveva adottato Marco Aurelio. Marco Aurelio, possiamo dire, purtroppo aveva eredi e per la sfortuna dell'impero decise che a regnare dovesse essere il figlio Commodo. Salì al trono Commodo nel 180, quando aveva soltanto 19 anni, un imperatore giovanissimo, e morì nel 192, quando aveva appena 31 anni, l'età di Alessandro Magno, grosso modo. Dopo un lungo periodo, dunque, segnato dalla presenza di buoni imperatori, e durato oltre un secolo, da Tito, a Galba, Traiano, Adriano, Antonino Pio, lo stesso Marco Aurelio, come abbiamo ricordato, Ecco finalmente un individuo eccentrico, che fece rivivere le grandiose crudeltà, la straordinaria dissolutezza di un Caligola o di un Nerone. Commodo è il terzo e probabilmente l'ultimo degli imperatori folli romani, dopo Caligola e Nerone. Abbiamo già visto, parlando degli altri due, quanto questo tema, gli imperatori folli, in apparenza semplice, pittoresco, banalmente forse divertente, sia in realtà un buon tema storico, direi un grande tema storico e una vera e propria sfida per gli storici, perché costringe ad affrontare un terreno accidentato e oscuro, il terreno dei rapporti tra la psicologia e il potere, quindi tra la patologia e il dominio. Il dominio provoca la patologia. Il tema è una vera e propria manna, bisogna riconoscere, per gli scrittori antichi e moderni, per i romanzieri, per i drammaturghi, e naturalmente per i registi cinematografici, ma non è un caso che Nerone sia la più grande star del cinema di ambientazione antico-romana. Questo tema alimenta proprio il sadismo dei lettori, degli spettatori, si potrebbe dire quasi il voyeurismo, a molto di scabroso, perché gli imperatori folli non soltanto sono crudeli, eccentricamente crudeli, ma anche inevitabilmente hanno una sessualità incontenibile e al tempo stesso versatile. E poi è un tema che consola, perché riversa i mali e le colpe della società su un unico individuo, cioè il pazzo al potere. Indubbiamente la folia dei ceseri è espressione della loro onnipotenza. Tutti i ceseri folli sono megalomani, tutti vogliono lasciare la loro impronta sul mondo. Commodo fece addirittura imprimere sulle proprie monete la leggenda Età d'Oro di Commodo e arrivò al punto di denominare la città di Roma come Colonia Commodiana. Tutti gli imperatori folli, Caligala, Claudio, Nerone si esibirono come aurichi, come cantanti, come gladiatori, uomini di spettacolo, protagonisti della scena. Questo è un punto molto importante e ne parleremo fra poco. Se Nerone preferiva il teatro e le corse dei cavalli, Commodo invece era un grande appassionato degli anfiteatri, dei combattimenti tra gladiatori, della caccia agli animali selvaggi che si svolgeva nelle arene. Commodo volle essere per i suoi sudditi, soprattutto per i sudditi che potevano vederlo, cioè la plebe di Roma, l'imperatore gladiatore. I gladiatori sono davvero un mito potente che dura dall'antichità ai giorni nostri. Sono un mito potente e ambiguo. Storici che hanno dedicato la vita intera a capire, a cercare di capire il mondo romano, soprattutto a non giudicare, perché lo storico non deve giudicare, quando si trovano di fronte ai massacri degli anfiteatri non possono fare a meno di esternare il loro disgusto. Com'era possibile che un popolo così civile provasse gusto nell'assistere ai massacri che si svolgevano in quei luoghi? Condannati a morte, giustiziati nei modi più efferati, uomini costretti a uccidersi in combattimenti all'ultimo sangue, esseri umani sbranati dalle belve, belve torturate e uccise dagli esseri umani, belve che si sbranano a vicenda. Insomma, un autentico orrore. La pagina classica dell'astrografia moderna si trova in un libro del 39, famosissimo, La vita quotidiana a Roma, all'apoggio dell'impero, scritta dal storico francese Jérôme Carcopilot. Scrive, penetrando nelle arene dopo quasi duemila anni di cristianesimo, abbiamo veramente l'impressione di discendere nell'inferno dell'antichità. Per l'onore dei romani, noi vorremmo strappare dal libro della storia questo foglio in cui restò intorbidata, macchiata da sangue indelebile, l'immagine di quella civiltà. Condannare tutto questo non ci basta, non arriviamo nemmeno a comprendere l'aberrazione nella quale cadde questo popolo, quando, tra tutti i piaceri che gli venivano offerti, preferì lo scannamento di uomini armati solo per uccidere ed essere uccisi alla loro presenza. Normalmente, soprattutto nei romanzi e nei film, questa depravazione collettiva viene messa in rapporto con le aberrazioni di imperatori mostruosi. E così ci capita regolarmente di vedere al cinema Nerone godere del sangue versato nel Colosseo, anche se egli non amava affatto i gladiatori e anche se il Colosseo fu inaugurato molti anni dopo la sua morte da Vespasiano. E il Colosseo fu inaugurato da Tito, l'imperatore addirittura definito amore e delizia del genere umano, con ben cento giorni di combattimenti e di caccia alle fiere, dobbiamo dedurne ancora una volta che la nostra morale non è quella antica. E l'ottimo traiano che Dante volle addirittura in paradiso, malgrado prima Gregoromagno e poi Dante, malgrado non fosse battezzato perché paganissimo, oltre che persecutore di cristiani, per festeggiare la conquista della Dacia, organizzò una carnificina davvero strepitosa, durata ben 123 giorni, con l'uccisione di 11 mila animali e il combattimento di 10 mila gladiatori. Quindi possiamo dire che l'equazione massacri degli anfiteateri uguale ai principi mostruosi non funziona. La novità, la stranezza di imperatori come quelli che scesero nell'arena, in particolare Comodo, sta nel fatto che essi non si limitarono a favorire gli spettacoli, a organizzarli, a costruire anfiteatri e spendere somme enormi per questi spettacoli, ma decisero di esserne i protagonisti, di essere essi stessi gladiatori. E' difficile per noi penetrare in questi fenomeni, in questa mentalità, in questa cultura, ma non dobbiamo fermarci all'impressione di ridicolo e di orrore che essa suscita. La sensibilità storica dei nostri giorni evita di stabilire graduatori di popoli crudeli. Certamente dopo quello che si è visto nel ventesimo secolo sarebbe difficile mettere i romani al primo posto, ma discorsi del genere evidentemente non hanno alcun senso, anche se forse talvolta piacciono. L'unica operazione seria è cercare di capire quale fosse il significato profondo, accanto all'indubbio sadismo delle masse, di quegli spettacoli, di quei massacri di uomini e di animali che si svolgevano negli anfiteatri. Anzitutto, per quanto possa sembrare strano, bisogna dire che i gladiatori erano portatori di una morale. Non vorrei scandalizzare nessuno, ma ho le mie testimonianze. I gladiatori erano ammirati se combattevano come veri soldati, come autentici guerrieri. E il gladiatore che pur sconfitto ha combattuto da vero guerriero, può sperare di aver salva la vita. Cicerone, che non amava i gladiatori, anzi li disprezzava, riconosce che nel loro comportamento c'era una lezione etica. Essi dimostravano che persino individui spregevoli potevano dimostrarsi valorosi, potevano saper morire con dignità. Insomma, il coraggio, il decoro era alla portata di tutti coloro che lo volessero. Però, questi combattenti delle arene non erano armati come veri soldati, non assomigliavano affatto a un legionario. Le ricordiamo tutte le loro armature. Le loro armi fanno paura, ma sono poco pratiche, sarebbero state poco pratiche in una battaglia. Insomma, nessun generale romano ha mai pensato di mandare in guerra i suoi soldati armati con una rete, con un tridente, oppure con in testa un gigantesco elmo sormontato da un pesce. Il fatto è che il gladiatore è soprattutto un guerriero che viene da un altro mondo, che sembra venuto da un altro mondo. E quello che ho detto dei gladiatori può dirsi degli animali. Nelle arene venivano immolate belve e animali strani che nessuno vedeva, non c'era la televisione, non c'era la fotografia, proveniente da terre lontanissime, leoni, tigri, pantere, leopardi, elefanti, rinoceronti, coccodrilli e così via. Pensiamo all'effetto che poteva fare sentire il rugito di un leone o il fruscito, il barrito di un elefante nel cuore di Roma. Era questo proprio il punto. Nel cuore della città, nel cuore di Roma e di tante altre città, si consumava uno spettacolo in fondo rassicurante. La distruzione della natura selvaggia e terrifica. Così come si celebrava lo spettacolo della morte di guerrieri strani altrettanto spaventosi che sembravano venire da una lontana barbarie. Pensiamo che cosa significasse, in termini anche di angoscia e di paura, vivere nella percezione che oltre i confini dell'impero e tutto intorno all'impero, perché l'impero non coincideva con il mondo, lo si sapeva, si essendessero immensi territori, sconosciuti, popolati da animali terribili e strani e da un'umanità inquietante. Questi spazi, questi animali, quelle genti orride, attraevano e terrorizzavano al tempo stesso. La loro distruzione, nel cuore della città, celebrava il trionfo della civiltà sulla barbarie, il trionfo del noto sull'ignoto. Ma questi spettacoli avevano anche una funzione politica, non nel senso banale perché servivano a tenere calma la plebe, non è questo il punto. Quando dico funzione politica lo dico in un senso diverso. Le riunioni dell'anfiteatro, come del resto quelle che si svolgevano nei circhi, nei teatri, erano riunioni del corpo civico che si autorappresentava a se stesso, era disposto in ordine, secondo gerarchie. La società si presentava a se stessa, ordinate e composta. Le autorità mostravano di condividere le stesse passioni della plebe, dialogavano con la plebe. E poi c'era il problema del monopolio della violenza che veniva sospeso e trasmesso per qualche istante. Ne parleremo fra poco. Gli spettacoli dei gradiatori erano un evento politico anche perché veniva redistribuito il monopolio della violenza. Il monopolio della violenza apparteneva al principe e nel momento in cui il principe spesso consulta il pubblico sulla opportunità di far uccidere o risparmiare la vita di un gradiatore, rinuncia a questo monopolio e in qualche modo lo democratizza. Ecco come si può inquadrare l'avventura gladiatoria anche di Commodo. Commodo, dicevamo, però non si limitò ad essere un organizzatore di spettacoli, volle esserne anche il protagonista. E in pubblico esibiva la sua natura superiore, la sua natura divina e le sue qualità soprannaturali. Si esibiva addobbato come Ercole, con la pelle di leone sulle spalle e la clava in mano. Ancora oggi lo vediamo così in una meravigliosa scultura. In un mondo privo di mezzi di comunicazione di massa, gli unici luoghi dove la superiorità del sovrano poteva essere mostrata, perché tutti la contemplassero, erano i luoghi dove il popolo si radunava in massa. Commodo si atteggiava a Ercole e poteva farlo non solo perché era imperatore, ma anche perché aveva una forza fisica davvero notevole. Si raccontava che fosse in grado di trapassare un elefante con un giavellotto e di abbattere con un solo colpo fiere di grosse dimensioni. Si diceva anche che avesse preso personalmente parte a 735 combattimenti di gladiatori e che andasse fiero delle vittorie, vittorie conseguite nell'arena, come se si trattasse di trionfi militari. Ma accanto a queste splendide esibizioni, che facevano inorridire i senatori benpensanti ed esaltavano la folla, gli autori antichi parlano ampiamente dei vizi di Commodo. Ci dicono, e l'elenco come sempre in questi casi è interminabile, ci dicono che fece sistemare nel palazzo imperiale taverne e postriboli che organizzò una sorta di harem composto di 300 uomini e 300 donne scelti per la loro bellezza, che la sua sessualità fosse onnivora. L'elenco è davvero lunghissimo, ma come al solito è difficile in questi casi dire quanto ci sia di vero e quanto di falso nelle rappresentazioni degli antichi. I dodici anni in cui Commodo regnò furono assai duri per il Senato. Furono scoperte congiure, di una fu protagonista la sorella Lucilla, che pagò con la vita, la rapressione fu violentissima, protratta nel tempo e spesso arbitraria. La situazione era fuori controllo, ma il sistema aveva i suoi rimedi. I rimedi, quando si manifesta la follia di un principe, si riducono in sostanza ad uno, il cesaricidio, l'uccisione del principe. Commodo, che prendeva le sue precauzioni, però fu strangolato da un atleta con cui si era appartato nel contesto di una congiura animato dalla sua concubina, marcia, strana figura sulla quale vorremmo sapere molto di più. Sembra appunto che avesse molte simpatie per il cristianesimo, che in questo periodo già qualche tempo circolava anche negli ambienti di corte. Il senato tripudiò con invocazioni rituali che ci sono fortunatamente rimaste in una biografia antica. Sono invocazioni appunto rituali, cadenzate. Il nemico della patria, il gradiatore si è fatto a pezzi, nemico degli dèi, carnefice del senato, colui che ha ucciso degli innocenti si è trascinato con l'uncino, la memoria degli innocenti si è onorata. Il regno di Commodo inaugurava sotto il profilo anche economico e sociale una fase nuova che gli storici chiamano comunemente crisi del III secolo, quindi un periodo lungo, difficile, in cui l'impero romano dovette fronteggiare nemici insidiosi, i parti, poi i persiani, i germani. In questi momenti difficili non mancarono tuttavia alcune esperienze grandiose dal punto di vista politico. La principale si deve all'imperatore Caracalla, di cui parleremo domani, sempre su Radio 2, alle 8 della sera. Alle 8 della sera 20 imperatori romani Di Andrea Giardina Regia di Federica Barozzi A cura di Giancarlo Simoncelli Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.